A kiss for you. Cecilia e Montesi sono rivisti, non hanno fatto lamore, però, parla Eva. Sorprendenti dichiarazioni di Eva Henger, un incontro segreto tra Francesco e Cecilia. Eva Henger continua ad essere una dei personaggi più chiacchierati e discussi sul web. Herba. . Questa volta, però, la nuova verità riguarderebbe anche la sua ex compagna, Cecilia Rodriguez. Gossip News, Cecilia e Francesco, un incontro segreto prima dellIsola. . Eva Henger ha precedentemente svelato lsms speciale, video, che Francesco ricevette prima della sua partenza per lCancelletto Isola dei famosi 2018. . Il messaggio ricevuto sul cellulare è quello di Cecilia la quale, qualche giorno prima della partenza di Monte, gli augurò un grosso in bocca al lupo. . Come per la precedente rivelazione, questa volta è sempre Eva a parlare e a rivelare un dettaglio molto sorprendente in merito ad un incontro segreto tra lEx coppia. . La Henger è stata recentemente ospite nella trasmissione Casa Signorini ove si è svelata sulla propria esperienza da naufraga e sui diverbi vissuti con Monte. Su quest'ultimo ha fatto sapere, prima di cominciare lIsola, Francesco è stato molto carino. . Si è confidato sulla sua vita, su sua madre e su Cecilia. Eva Henger rivela, Francesco e Cecilia si sono rivisti, non hanno fatto lamore, però. . Mi ha detto di provare ancora dei forti sentimenti per lei e che dopo la fine del reality il grande fratello Vip è andato a trovarla. . Non hanno fatto lamore, però, ha fatto sapere Eva Henger la quale ha subito interrotto la sua rivelazione nel momento in cui si è accorta di aver già spifferato varie informazioni sulla vita privata del giovane ragazzo meridionale. . Mi fermo qui, ho già parlato troppo, ha annunciato lEx naufraga confermando, inoltre, la buona probabilità che ci possa essere, in futuro, un ritorno di fiamma nella ex coppia. Si tratta di rivelazioni strettamente personali a cui Francesco risponderà, sicuramente a breve. . E voi cosa ne pensate a riguardo? Nellattesa di scoprirne di più vi invitiamo a non perdere i nuovi aggiornamenti su Cecilia Rodriguez, Francesco Monte e Eva Henger. . Per rimanere sempre aggiornati vi basterà seguire le notizie dellautore che ha scritto questo articolo di cui trovate il nome appena sopra il titolo della news. . .